Non parlerei di bacchettare perché la Corte dei Conti, come ho detto anche in altre occasioni, svolge una funzione dell'ordinamento repubblicano. È una funzione di controllo e di pungolo rispetto alle pubbliche amministrazioni. Noi raccogliamo con attenzione le segnalazioni che dalla Corte dei Conti ci pervengono. Non chiamatele bacchettate ma un pungolo ed uno stimolo che deve spingere la Regione a recuperare il tempo perduto da altre amministrazioni nella partita del riaccertamento contabile. Parole del consigliere regionale Maurizio Di Nicola, presidente della prima commissione bilancio, all'indomani della delibera della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti che ha evidenziato gravissimi ritardi e comportamenti omissivi della Regione Abruzzo nella parifica dei rendiconti relativi all'anno 2013 che sarà approvata a giorni al 2014 e al 2015. Ancora da venire insomma l'operazione verità che obbliga la Regione ad esaminare i debiti e i crediti dell'ente accumulati negli anni per poter quantificarne con esattezza la consistenza e dunque il disavanzo accumulato. Operazione necessaria e anzi obbligatoria per prevedere un piano di riduzione a rate di tale disavanzo per poter approvare bilanci con coperture reali e non solo scritte su pezzi di carta. Il Movimento 5 Stelle a seguito del pronunciamento della Corte dei Conti è arrivata a chiedere le dimissioni dell'assessore al bilancio Silvio Paolucci che a sua volta ha preso di petto la vicenda accusando la Corte dei Conti di aver usato nella relazione aggettivi demolitivi e di non aver preso in dovuta considerazione l'immenso sforzo che la Regione sta compiendo nella partita dei riaccertamenti recuperando il tempo perso e le omissioni delle legislature precedenti. Sulla stessa linea di Nicola seppure con toni più concilianti e sfumati. E gli uffici sono impegnati al massimo delle forze possibili a mettere in qualche maniera un riparo ad un lavoro che avrebbe dovuto essere svolto negli anni trascorsi e che non è stato svolto. Quindi nessuna preoccupazione se non il fatto che bisogna accelerare ulteriormente perché questo organo di controllo che svolge una funzione dello Stato ci dice che è necessario recuperare il tempo perduto. Qui la parte politica obiettivamente ha nelle mani il pallino politico della gestione ma la documentazione e gli incartamenti evidentemente devono pervenire dai dirigenti e dagli uffici della Regione Abruzzo. Io so che l'assessore Paolucci è impegnato fino allo stremo delle forze su questo aspetto e ha sollecitato tutta l'attenzione possibile ai nostri dipendenti regionali. Confidiamo che nel meno tempo possibile si possa arrivare a rimediare a quell'ultimo pezzetto di strada che ci manca. Ridurre il personale della Regione in sovrannumero tenuto conto che sono arrivati anche i dipendenti delle province per ottenere al regime un risparmio di 4,5 milioni di euro l'anno e per potersi dotare finalmente delle figure tecniche, ingegneri e geometri in primis che mancano nell'organico. Questo per il coordinatore della maggioranza di centro-sinistra Camillo D'Alessandro il senso e l'utilità del maxipiano di prepensionamenti deciso dall'Aggiunta regionale che interesserà circa 170 dipendenti che comunque erano già in dirittura ad arrivo per l'età pensionabile. Si tratta di personale che aveva i requisiti per il prepensionamento noi abbiamo attivato questa procedura. Noi vorremmo a seguito di questa operazione che produce risparmio, poi poter nei limiti delle risorse e delle possibilità che il regime ci consente inserire una serie di figure di cui la Regione un po' manca, soprattutto le figure tecniche, penso agli ingegneri, penso ai geometri. L'operazione non sarà però a costo zero, ci sarà infatti necessità di una indennità sostitutiva per il mancato preavviso di sei mesi, previsto in caso di procedura di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro. Indennità che avranno un costo di circa 2,5 milioni di euro, ma per D'Alessandro il saldo resterà comunque ampiamente positivo. C'è una spesa subito a fronte di un risparmio di domani, tra spesa subito e risparmio di domani si risparmia. Io credo che non è che i servizi lo dà il numero dei dipendenti, i servizi li dà l'organizzazione dei dipendenti e per organizzare bene i dipendenti anni ci serve un numero fisiologico e non patologico. Assegnare i fondi per istituzioni, associazioni e manifestazioni culturali con bandi di gara inizio anno, con regole certe, paletti e controlli. Apprometterò il consigliere regionale del Partito Democratico Luciano Monticelli, che ha ricevuto dal Presidente della Regione Luciano D'Alfonso l'incarico di seguire il settore della cultura, delega che resta in capo al Governatore. Il diversamente assessore Monticelli, questo incarico intende prenderlo terribilmente sul serio, a cominciare dall'applicazione della legge 46 del 2015, rimasta ancora sulla carta, e che prevede l'istituzione di una commissione tecnica, incaricata di valutare le richieste di finanziamento, di un osservatorio composto da esperti per verificare l'efficacia dell'intervento ed il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, l'emanazione di bandi per progetti triennali in linea con le direttive europee, alimentato da un fondo unico per la cultura. L'osservatorio, il programma triennale, ma soprattutto i bandi. Ecco, allora io ritengo che sia importante creare subito i bandi perché anche per gli operatori sanno a cosa vanno incontro durante l'anno. Non possiamo arrivare a fine anno con il fatto che chi ha già operato non sa di quali finanziamenti può ricevere da parte della Regione Abruzzo. Quindi questo è uno degli impegni principali che farò, credo, appena ad anno nuovo, perché adesso siamo impegnati nella fase del bilancio. Una svolta, non c'è che dire. Finora immemorabili i consigli regionali si è continuato, tra feroci polemiche ed epocali scontri, ad erogare a pioggi fondi per la cultura, senza criteri oggettivi, a suon di emendamenti e subemendamenti attaccati ad altre norme, a beneficio di decine e decine di enti e manifestazioni, ciascuna costretta a ottenere la benevolenza di questo quel consigliere regionale che inevitabilmente tende a favorire enti e manifestazioni che operano nel suo territorio e bacino elettorale. Monticelli però non vuol sentir parlare di marchette, come hanno bollato questi finanziamenti consiglieri del Movimento 5 Stelle. A volte si esagera anche nei termini, perché comunque il consigliere rappresenta una determinata zona, quindi non è che faccia qualcosa di grave. Probabilmente non c'è stata una organizzazione, una programmazione, quindi questo su questo si ha perfettamente ragione, ma appunto fare i programmi e i bandi all'inizio dell'anno servono anche a questo. Al di là che poi possa avere il finanziamento, ma sa colui il quale lo riceve e come deve comportarsi durante l'anno o durante il momento in cui fa una manifestazione. Non ritengo che comunque sia così da criticare fortemente, perché poi in fondo lo diamo alle associazioni. Se qualcuno rimane fuori, questo è bisogno capire il motivo.